E benvenuti al concetto di Natale fine anno 2011. Anche quest'anno si rinnova un tradizionale evento organizzato dall'associazione bandistica Vincenzo Bellini, diretta dal maestro Gianfranco Ricci. Di 26 anni di vita, essa ha visto la partecipazione di centinaia di musicisti che l'hanno fatta diventare, tra le banche perinomate, cittadine sociali. Di questi tempi, dove le certezze di tutti non sembrano più intoccabili, la banda resta un ambiente sano e sicuro, dove ognuno può crescere e maturare e in cui possiamo coltivare la nostra passione, sentendoci parte di una grande famiglia. Anche quest'anno vi proponiamo un programma composto da brani di diverse epoche, ceneri e autori, sviluppato grazie al nostro impegno quotidiano nello studio e nelle proprie settimanali, che, siamo certi, saprete apprezzare. Apriamo la serata con l'esecuzione del diritto nazionale, il diritto del maestro Gianfranco Ricci. Applausi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.